Ciao ragazzi, un nuovo video, questo è il video dell'estrazione del giveaway in collaborazione con Alice. Questo video d'estrazione dovete scusarmi tantissimo, ma non ho potuto fare il video mentre estraevo, perché quando ho fatto l'estrazione ero via, non ero a casa, cioè ero a casa, a casa del mio ragazzo e non avevo la videocamera con me, lui non ha una videocamera, quindi non ho potuto farlo, ho provato a farlo tramite il telefono ma veniva malissimo e non si vedeva niente, quindi scusatemi se per la prima volta nella storia del mio canale youtube e nella storia dei miei giveaway non vedrete il momento dell'estrazione. comunque la ragazza che ha vinto si chiama Chiara Salerno e quindi ha seguito le regole, quindi è iscritta al mio canale e ha messo il mi piace alla pagina facebook di Alice, quindi è tutto corretto. ora l'unica cosa chiara è farti sentire entro 48 ore, se entro 48 ore non ti farai sentire o riguardo alle altre non si farà sentire questa ragazza, provvederò con una nuova estrazione, spero vivamente di no. quindi niente, io vi mando un bacione e qua continuo a nevicare ininterrottamente, ci sono circa 50 cm di nere e fra tre giorni è primavera, bello vero? sì, come vedete infatti ho la sciarpa in casa perché si muore di freddo. comunque, chiusa questa parentesi. niente, appunto la vincitrice del giveaway di creazione di Alice è appunto Chiara Salerno e niente, vi mando un bacione, scusatemi ancora per questo piccolo inconveniente ma appunto non essendo a casa non potevo farlo e mi dispiaceva non fare l'estrazione il giorno giusto che era stato detto, quindi l'ho fatta e però senza video, ma vi prometto che non capiterà mai 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 più. niente, vi mando un bacione e al prossimo video. ciao!